Sono il dottor Maurizio Mangiaratti, cardiologo di Unisalus. In Unisalus ci occupiamo di cardiologia clinica spaziando i vari argomenti della cardiologia che vanno dall'ipertensione arteriosa alla patologia ischemica, cioè la malattia coronarica, alle aritmie sia di tipo bradiaritmico, cioè le aritmie lente, sia di tipo tachiaritmico, e le aritmie veloci, sia l'insufficienza cardiaca, senza dimenticare le patologie legate alle complicanze cardiologiche e cardiovascolari del diabete medito e alle complicanze cardiovascolari della chemioterapia. Diamo una particolare enfasi all'aspetto della prevenzione cardiovascolare, dando consigli mirati con l'ausilio anche della nutrizionista all'aspetto dietetico e al mantenimento di un corretto peso corporeo, all'accessazione del fumo e all'attività fisica regolare nell'arco della settimana. In Unisalus abbiamo a disposizione metodiche cardiovascolari non invasive, quali l'ecocardiografia come il Doppler a colori, i test a sforzo, l'elettrocardiografia dinamica secondo Holter. Sempre nell'ambito della prevenzione cardiovascolare è raccomandabile che tutti controllino di tanto in tanto la pressione arteriosa perché col passare del tempo e l'avanzare dell'età in molte persone la pressione arteriosa tende a salire e, raccomandabile, un controllo cardiologico di tanto in tanto, soprattutto dalla mezza età in poi. Grazie a tutti!